Start, two, one, install mission and liftoff! Il gioco è ambientato in un mondo semi post apocalittico nel senso che qualcosa è successo, viviamo in queste baracche di case, mezze distrutte e costruzioni di lamiera, abbiamo la nostra casa, abbiamo il nostro camion che soffre di evidenti problemi, abbiamo delle comodità che altri giochi non ci concedono, cioè passando sopra col mouse possiamo vedere lo stato del gasolio, lo stato del rifrigerante e così via, potremmo andare poi a smontare le varie componenti e ripararle, abbiamo la possibilità di prendere in mano oggetti, non ho onestamente ancora capito come si faccia a mettere tutto nello zaino, perché come possiamo vedere dalle impostazioni, adesso la grafica è questa, abbiamo la possibilità di aprire il backpack, quindi mettere tutto nello zaino con il tasto I, con la possibilità di scaricare lo zaino, di metterlo in spalla, di aprirlo, di metterlo in spalla e così via, più i controlli dei vari mezzi. Ora, questo non lo volevo fare, vedete che potete aprire anche il cassone del vostro camion, qua abbiamo delle toolbox che premendo F andiamo ad aprire e togliere le varie componenti, questa è una repair box per riparare, una toolbox che sembrano praticamente identici, se non che uno con la mano sinistra, uno con la mano destra, abbiamo poi il car part adjuster, che è praticamente quello che ci consente di riparare le parti della nostra auto. Qua abbiamo una sorta di, non so cosa sia, sembrerebbe una molla. Qua abbiamo la nostra casa con i vari oggetti, tra cui la bussola, abbiamo il binocolo, abbiamo un coltello vecchio, la possibilità di, come succedeva in My Summer Car, di fumare. Possiamo spingere, possiamo andare a fare i nostri bisogni. In basso a sinistra vedete tutti i valori, quindi la sete, la fame, la necessità di fare questo, di fare pipì. Ed è molto carino il fatto che il gioco tenga conto un pochino della fisica. La grafica è la grafica classica, disagio. Vedete che rimbalza sul piatto, quindi andando lì vicino poi possiamo bere, ha delle semplificazioni. Ora possiamo accendere o spegnere i vari fuochi, quindi possiamo andare teoricamente anche a cucinare. Con il tasto R possiamo zoomare, Q ed E ci incliniamo e con Z ci incliniamo in avanti. Ora, noi siamo in una zona, vediamo un attimo, di là c'è Balarsk, quindi Balarsk è là. Noi tecnicamente dovremmo essere tipo cui, no, io non ho ancora capito dove siamo, però insomma dobbiamo andare in città qui. La via è abbastanza tosta e questa è la mappa esplorabile. Bene, come vi dicevo non vi insegnerò a giocare, il mio scopo è quello di farvi conoscere questo gioco, se magari non lo conoscevate. Abbiamo del gas, che non so cosa mi servirà, cioè sono tutte cose che non ho idea, probabilmente qui dobbiamo andare a connetterlo a questa. Vedete che è uscito il simbolino della... Ok, infatti, possiamo andare ad accendere, ok, perfetto. E qua in frigo abbiamo le cose che possiamo mangiare, abbiamo fame 11, io mi mangio le salsicce, adesso chiudo. E niente, il gioco ci dice qualcosa? Sì. Beh, prima di tutto vi faccio vedere che la porta si apre sempre nella stessa direzione, che è una cosa comodissima e realistica. E qua abbiamo un messaggio del nostro padre che ci dice che lui è andato a Nord per curare la sua malattia, dice di andare dal vicino e che può darci qualche consiglio e dovremo trovare un po' di lavoro a Jack. Andiamo a Balarx e giriamo a sinistra e troveremo quello che ci serve. Abbiamo delle zucche di Halloween e così via. Dobbiamo salvare perché c'è la morte in questo gioco e morendo dobbiamo ricaricare la partita. Uno dei punti negativi del gioco sono i caricamenti molto molto lunghi. Infatti è lo stesso gioco a dirci, quando carichiamo la nostra partita, che il tempo d'attesa potrebbe essere di due minuti. Questo è il nostro vicino e ci dice che siamo figli di... ricordo più alto, ha una testa un po' particolare, ma siamo abituati a questo e non ci dà fastidio. Abbiamo questa tannica di benzina che andiamo a mettere subito nel nostro camion e ovviamente poi sul tubo troverete probabilmente non in italiano, poi ci penserò anche io se farli o meno, ma troverete dei tutorial in lingua inglese. I riflessi sono molto belli, non è banale. Allora, io lo carico con K, possiamo... no, con K con T. Vabbè, tanto lo molliamo semplicemente. Poi potremmo fare il pieno semplicemente spostando e versando all'interno qui il carburante. Dovrei mettere del refrigerante, ma purtroppo qui non c'è nessuno che vende roba. Potrei andare a esplorare là in fondo, ma la prima cosa che facciamo è uscire con questo camion e andare. Apriamo la portiera, col tasto invio ci mettiamo dentro e premendo, vedete, abbassa il finestrino, che è bellissimo perché si vede che è proprio sporco e... va bene, ignition. Accelero un po' per facilitare. Tolgo il freno a mano, metto la prima e vado. E ora andiamo in città. Gli specchietti sono calcolati in tempo reale e sono una grande comodità. Qui davanti abbiamo il pannello con la temperatura, il voltaggio della batteria e il livello dell'olio. In basso, invece, a sinistra, sopra la fatica, abbiamo la marcia e abbiamo la velocità, scelta ancora più piccolo. Intanto stiamo andando, qui sembrano esserci delle case abbastanza chiuse. Che non credo possiamo... O magari sì, dobbiamo fare attenzione a non morire, insomma. Io continuo a cambiare pensando sia a un Mombazoo o un My Summer Car. Ecco, si ispira anche a Mombazoo, insomma. O Mombazoo si ispira a questo, non lo so. Ma sono il tipo di giochi che a me piacciono. Che vi danno buona, diciamo, qualità. Buona, scusate, non buona qualità, ma buona quantità di cose a fare. E buona libertà. Il motore sta già iniziando, possiamo vedere da qui, a surriscaldarsi. Infatti sta iniziando a fumare. La cosa molto bella è che quando arriveremo in città, se ci arriveremo, saremo in pessime condizioni. Perché avremo il motore che fumerà copiosamente. Quello che ho visto online da altri video, da altri tutorial, è che avremo la possibilità di smontare il motore. Lo faremo molto semplicemente, niente a che vedere con My Summer Car. Ma, più come un Mombazoo, estrarremo il motore, monteremo quello più potente, rimonteremo le parti intorno, insomma, tra radiatore e cose varie. Rimetteremo i fluidi, quindi l'olio motore e il refrigerante, e potremo avere un camion un po' più potente per poter andare più lontani in tranquillità. Tra l'altro, il gioco ha delle tematiche un po' particolari, nel senso che non si possono usare solo sostanze, diciamo, legali, ma potremmo usare anche sostanze illegali. Quindi, oltre che, come potremmo notare appena arriviamo in questa città, c'è la polizia. La polizia sarà possibile corromperla, ma potremo anche venire multati e arrestati se contrabbandiamo, se facciamo delle cose illegali. Oltre che, come vi dicevo, dobbiamo fare attenzione agli altri mezzi, perché se veniamo investiti muore e bisogna ricaricare. Io non avevo salvato, infatti mi ha ricaricato probabilmente un save tech, e risultavo in debito di un sacco di soldi. Questa è una sawmill, quindi una segheria, e probabilmente qui potremmo lavorarci. Comunque, noi intanto siamo arrivati in città, li vedete dei poliziotti. E questo mi ricorda un po' il terrore che si provava in My Summer Car quando si veniva fermati. Spengo, spengo il motore, tiro il freno a mano e scendo. Il motore non è benissimo, quindi scendiamo. La cosa, un po' problematica, è che quando scendiamo risultiamo bassi. Comunque sta fumando copiosamente. Qui abbiamo un Errol's Antiques, che praticamente ci dice che se vogliamo, qui c'è una porta che non avevo visto, possiamo andare a nord, e se troviamo qualcosa di valore vintage, lui ce lo valuta. Tra l'altro in basso a destra, abbiamo dei soldi, abbiamo il giorno e l'anno. Abbiamo vediamo un po', no, non possiamo prendere in mano tutto, ma gli oggetti generalmente sì. Qui vediamo se c'è qualcosa da prendere, no. Valutiamo un pochino com'è fatta la Big City, bisogna fare attenzione alle auto che passano. qua abbiamo, ecco, cosa molto carina, questo negozio, con la faccia esattamente del tipo di prima, sarà suo fratello, comprano questo, ma possiamo anche andare a guidare in driving mode il mezzo. adesso non so come si faccia, vedete che abbiamo la possibilità di guidarlo, ma non ho la minima idea di come si guidi, sto a fare, probabilmente non, per scaricare le cose. È un muletto, ovviamente, se non si fosse capito. e questo è ufficialmente Kowalski, sì, il mercante di saldature e cose varie, di metallo, insomma, quello che dovrebbe essere. Qua abbiamo un tizio che non sta mica tanto bene, ma io faccio finta di non vedere. Monday to Friday, quindi abbiamo la possibilità di entrare anche in questo edificio, e questo edificio è un negozio che vende roba. Vende la mappa, 15.000, infatti era una delle quest che avevamo, quindi la compriamo. Grazie. Posso metterla via? No. E questa è la mappa. E siamo a Balarsk. Tra l'altro io ho la mappa, non saprei minimamente dove metterla, quindi mi piacerebbe comprarmi un backpack, ma il backpack io non so dov'è. Non me lo dice, non me lo fa mettere via. Ah, posso metterlo qui, backpack 1, 2, 3, backpack, k, 1, non riesco a capire, use map, 1, no, i, no, no, purtroppo, ok, l'ho messo. Finalmente sono riuscito a capire come funziona. Ci vende vodka, ci vende delle pentole, ci vende sigarette, ci vende peperoncino, ci vende mele, abbiamo il coolant, l'empty, il motor oil, io li compro, quindi se io lo compro, lo trovo là, compro anche questo, e li voglio mettere in, sul 2, premo i, ok, adesso li sto prendendo, ok, perfetto, abbiamo il backpack, con k vedete se compare o meno, abbiamo preso quello che dovevamo prendere, empty diesel o benzina, abbiamo un'altra bombola, e possiamo comprarci, scusate ma, ah sì, ci fa comprare altro cibo, quindi bene, abbiamo preso del pane, del maiale in scatola, bene, continuiamo l'esplorazione, abbiamo della gente, prendiamo giù anche dei poliziotti, salve, no, non posso far pipì in giro, è stato censurato questo, salve, questo non sta proprio benissimo, a me piacciono questi giochi, anche per questo motivo, insomma, c'è del disagio, tanto disagio, vabbè, insomma, questa è la città, il mondo ancora è abbastanza grosso da esplorare, proviamo a rimettere i, i fluidi all'interno del, motor oil e il coolant, ok, coolant, no, usalo, con il tasto destro, vedete che possiamo girarlo, non me lo usa, perché? ah è finito, il radiatore è finito, ok, ma il radiatore secondo me è rotto, bisognerà ripararlo, adesso io vorrei capire, se il tappo è caduto dentro, o meno, no, non, ok, l'ho rimesso, perfetto, voglio andare a parlare anche con i poliziotti, e vedere che cosa mi dicono, perché probabilmente mi perquisiscono, e mi vedranno se ho oggetti legali addosso, e vederci, niente, c'è, c'è forse un bus, sì, perché si comprano, c'è il viaggio rapido, quindi c'è il bus che ci viene a prendere, eh, tecnicamente queste sono le basi di The Slaverian Tracker, che sembra davvero un gioco molto, carino, particolare, eh, sarà da esplorare, ma vi garantisco che non è finita qui, perché, c'è tutta la, la visione, diciamo del, siamo a Balask, e tecnicamente, dipende da dove lo guardiamo, però di fronte a noi ci sono montagne, e dietro no, quindi io stesso sto guardando le montagne, quindi guardando le montagne, andando a sinistra, c'è Um, a Gurinsk è Um, ok, andando avanti abbiamo la miniera di carbone, abbiamo la discarica, abbiamo il porto, oppure andando avanti, girando a sinistra, ci fa fare tipo il passo montano, andiamo di là, e c'è la miniera di ferro, c'è Comso Drinsk, e tutte le, le fine di petrolio, e cose varie, quindi di cose ce ne sono parecchie, molto bene, quindi io ho rimesso via la mappa, no, e che cacchio ho messo, e l'ho persa probabilmente la mappa, 1, 2, 3, 2, ok, questa metti me la via, 1, e non me la mette via, perché? Perché devo impugnarla, e primo i, ok, ho perso la mappa, nei giochi di questo genere me lo aspetto però, cavoli, magari guardo qualche parte, lo fate cadere, ma insomma, lo scopo di questo video è farvi conoscere questo titolo, fatemi sapere che cosa ne pensate, questo sarà appunto un breve video, perché appunto, va approfondito, però, non stavo più nella pelle per portarvelo, insomma, e farvelo conoscere, se qualcuno di voi ne conosce altri simili, me lo scriva, ma anche se qualcuno lo ha giocato, e lo ha spolpato, e lo conosce bene, mi faccia sapere, polizia che va in giro, insomma, va bene, alla prossima ragazzi, e ciao ciao!